ciao gente vi do il benvenuto nel mio 14esimo video sul dnd non temete non c'è bisogno di aver visto gli altri 13 cioè se li avete visti mi fa molto piacere ma non è obbligatorio specifico che il 14esimo perché oggi parlerò di qualcosa che è presente in dnd in 14 varietà parlo del tipo di creature questo sarà un video abbastanza semplice non mi metterò a fare tutta la storia e tutte le informazioni possibili immaginabili su tutti i tipi di creature è un video volto soprattutto a chi ha iniziato a giocare da poco e a chi bisogno di un veloce ripasso perché sì per giocare a dnd basta la voglia di ruolare ma non ci sarebbero manuali di centinaia di pagine se l'aspetto meccanico fosse inutile specie perché alcuni di questi tipi di creature vengono citati in alcuni privilegi di classi a livello 1 mentre per altre classi ci sono molti incantesimi che parlano di una creatura e quindi vanno bene per tutti ma alcuni specificano il tipo di creatura e quindi non si può bersagliare chiunque un esempio è classico blocca persone che spesso la gente crede di poter utilizzare su chiunque ma deve bersagliare un umanoide non altre categorie ed è normale quindi fare questo errore non voglio colpevolizzare nessuno gli incantatori pieni lo possono prendere a livello 3 e devono magari prendere ancora un po di confidenza con questo aspetto meccanico il tipo di creatura lo trovate nella scheda della creatura immediatamente sotto al nome prima di taglia e allineamento quello che è importante capire è che i tipi di creature non sono le razze sono un insieme ancora più ampio come ogni razza può avere più sotto razze ogni tipo di creatura ha dei sottotipi di creature l'esempio più semplice sono le razze del manuale del giocatore sono tutti umanoidi che siano elfi nani tifling draconidi non importa non importa la razza sono considerati umanoidi quindi a meno che qualcuno non prenda razze strane da altri manuali vi rimando alla mia trilogia sulle 30 razze del manuale di mordenkainen magari il satiro potete considerarli umanoidi e quindi potete usare blocca persone su di loro se fanno cazzate ma ormai mi riconoscete e sapete quanto mi piace l'ordine alfabetico quindi non vi deluderò le prime sono le aberrazioni e forse sono le più difficili da spiegare creature totalmente aliene sia nel modo di pensare e di comportarsi che nell'aspetto solo alcuni hanno forme che possono ricordare degli umanoidi altre sono diverse spaventose pure il loro modo di pensare completamente diverso dal nostro non saprei neanche in che modo descriverlo essendo oltre la concezione umana possono essere depositori di grandi conoscenze arcane e tipicamente hanno poteri psionici la loro lingua tipica è il gergo delle profondità quindi se giochi un ranger e gli scegli come nemici prescelti puoi chiedere al dm di conoscere il gergo delle profondità meglio avere competenza o vantaggio nei tiri salvezza su saggezza se gli si affronta ne faranno fare un bel po oppure l'incantesimo protezione dal bene e dal male quello fa sempre comodo tra gli esemplari più famosi abbiamo gli abolet i beholder i plump e i mind flayer per quanto riguarda le classi giocanti potreste giocare uno stregone mente aberrante la cui natura umanoide è stata pesantemente influenzata da queste aberrazioni offrendo gli poteri stregoneschi oppure un warlock che come patrono un grande antico le successive sono le bestie qui è molto facile perché ci abbiamo a che fare anche nel nostro mondo sono gli animali puri e semplici animali girate per la città e vedete un gatto randagio è una bestia vedete i cani da caccia di un nobile sono delle bestie girate per il bosco e trovate un cerco selvatico è una bestia gli unici elementi di confusione possono essere animali che da noi sono istinti tipo dinosauri o le tigre ai denti a sciabola che possono essere inseriti nei mondi di dnd come ancora vivi così si può fare dndnd dungeons and dragons and dinosaurs ci sono un sacco di incantesimi per i druidi ranger per relazionarsi con queste adorabili creature come parlare con gli animali amicizia con gli animali percezione delle bestie oppure incantesimi arcani per bar di maghi e warlock come metamorfosi che promette di trasformare creature più o meno consenzienti in bestie i druidi poi dal livello 2 sono in grado di mutare il loro aspetto in queste bestie mantenendo però il raziocinio i barbari del cammino totemico sono anch'essi legati alle bestie visto che la loro ira si ispira ad esse e possono lanciare alcuni incantesimi sottracitati come rituali fate attenzione che i mannari non sono bestie e non lo sono neanche i tanto amati orso gufi o grifoni i celestiali sono quelli che chiamiamo comunemente angeli anche se il termine più corretto è abitanti dei piani esterni superiori non solo anche altre creature come unicordio pegasi sono celestiali tipicamente sono legali buoni quindi si perseguono il bene ma allo stesso tempo non esiteranno a punire i malvagi e la loro giustizia è assoluta e insindacabile quindi non fateli incazzare mi raccomando sono generati da frammenti di divinità benevole e abitano una buona porzione dei piani superiori anche se possono recarsi nel piano materiale per compiere qualche missione per conto di una divinità un modo per affrontarli sono gli incantesimi protezione dal bene e dal male o a livelli più alti dissolvi il bene e il male occhio che la maggior parte di questi celestiali sanno riconoscere rapidamente verità e bugie la loro lingua principale è celestiale in caso qualche ranger volesse cacciare per qualche ragione i celestiali possono essere percepiti facilmente con l'incantesima individuazione del bene e del male oppure con la percezione del divino tipica dei paladini se si vuole giocare un personaggio a fine celestiali potrete prendere un asimar una creatura che ha un po di potere celestiale al suo interno oppure un warlock che ha come patrono appunto un celestiale giungiamo quindi a parlare dei costrutti se la maggior parte delle creature nascono i costrutti non nascono vengono creati sono creature che vengono costruite da maghi o artefici mettendo insieme cose che normalmente non sarebbero vive per poi infondergli la vita con la magia gli esempi più famosi sono i golem oppure le armature animate mentre come abitanti dei piani esterni ci sarebbero i modron gli abitanti di meccanus il piano dell'ordine assoluto modron è anche la lingua del loro popolo quindi è quella che un ranger che sia concentrato sui costrutti potrebbe chiedere di conoscere normalmente sono dotati di numerosi punti ferite resistenze quindi è sempre meglio avere armi magiche quando gli si affronta si può anche provare a costruirne uno con l'incantesimo evoco a costrutto oppure con l'oggetto magico manuale dei golem ma lì le spese economiche sono molto ingenti quindi valutate bene specie perché la stragrande maggioranza degli incantesimi di cura non funzionano sui costrutti anche se alcuni si possono curare con il trucchetto riparare che se non trucchetto è utilizzabile all'infinito può giocare una cosa simile a un costrutto senza tuttavia esserlo giocando un forgiato visto che sei una specie di robot senziente tuttavia è importante ricordare che sei umanoide e quindi le cure magiche le prendi comunque le alternative sono l'incantesimo anima e oggetti l'artefice fabbro da battaglia o il bardo collegio della creazione passiamo poi alle creature che appaiono nel nome del gioco i draghi sono creature simili a giganteschi rettili dall'immensa potenza sono divisi in due grosse categorie poi altri manuali ne hanno aggiunte altre metallici e cromatici i primi sono tipicamente buoni i secondi cattivi i metallici hanno scaglie che ricordano i metalli oro argento rame bronze ottone i cromatici hanno scaglie con colori vistosi rosso blu nero verde bianco più crescono più diventano potenti i vari stadi della crescita sono da cucciolo fino ai cinque anni giovane fino ai cento anni adulto fino agli 800 anni e antico oltre quell'età a differenza di altri mondi fantasy non sono creature prive di razziocinio anzi sono creature molto intelligenti avide egocentriche se sono malvagie mutaforma e saggi se sono buoni ogni colore ogni metallo di drago sono unici e non posso mettermi a spiegarli tutti qui magari in un video futuro considerate però che non ci sono solo questi dieci tipi di drago ma ci sono anche quelli imperfetti tipo le tartarughe drago o le riverne la loro lingua il draconico e ci sono molti modi per giocare personaggi legati ad essa la razza del draconide per esempio che ti rende un urmanoide con le fattezze di un drago antropomorfo oppure lo strutturone discendenza della cronica il monaco della via del drago ascendente oppure il ranger dracon warden che stringe un patto con un draghetto che cresce con il tempo passiamo dagli elementali sono legati principalmente ai quattro elementi imperoclidei acquaria fuoco e terra anche se esistono alcuni elementali che sono anche di quattro incroci tra questi elementi come ceneri ghiaccio fango magma o anche altre cose tipo il fumo il vapore sono spiriti di materia grezza non plasmata con una potenza brutale raramente accompagnata da intelligenza quindi sono facilmente manipolabili dagli incantatori la loro lingua il primordiale ed è divisa in quattro dialetti mutualmente comprensibili aquan auran ignan e terran chiunque parli uno di questi dialetti comprende e riconosce anche gli altri tre nonostante le differenze per difendersi da essi ci si può usare protezione dal bene e dal male oppure dissolvi il bene e il male ci sono vari modi per giocare con affinità elementali ci sono le razze dei genasi che sono creature umanoidi simili a degli elementali c'è il droido della luna che dal livello 10 potrà trasformarsi anche in un elementale o il warlock con il patrono un genio ovvero un signore degli elementali almeno finché questi restano sul loro piano d'origine dopo vengono i folletti o meglio le creature fatate è un casino perché fei è stato tradotto in molti diversi manuali diversi si tratta di spiriti naturali espressioni della vita e spesso festosi dopo gli umanoidi è il tipo di creatura più facile da giocare dopo tutto anche solo nel manuale di mordenkainen c'è più di una razza che non è umanoide bensì un folletto o fatato che dir si voglia tipo centauri o i satiri considerate che se li giocate sarete immuni agli incantesimi come blocca persone ma vulnerabili a protezione dal bene e dal male e scacciabili con l'incanalare divinità del paladino giuramento degli antichi spesso parlano il silvano lingua quindi che può imparare un ranger che gli sceglie come nemici prescelti oppure il duido pastore fate attenzione che per quanto molti siano buoni sono spesso caotici e quindi imprevedibili a volte hanno vulnerabilità per alcuni metalli in particolare tipo il ferro o l'argento da questi fatati discendono gli elfi che infatti hanno tra i privilegi di classe discendenza fatata un altro modo per giocarci a stretto contatto è il warlock che ha come patrono il signore fatato forse la sotto classe più sottovalutata per questa classe folletti fa pensare a qualcosa di piccolo quindi passiamo a qualcosa di imponente i giganti molti li considerano umanoidi ma non sono considerati tali in quanto sono molto più antichi e strutturati in modo ben specifico sì sono di forma umanoide ma molto più grandi seguono l'ordinamento una precisa gerarchia che prevede come ognuno abbia dei superiori e degli inferiori nessun gigante pari a un altro per quanto le varie razze di giganti abbiano i loro ordinamenti interni il più umile di una razza sarà superiore al più nobile prestigioso gigante di una razza inferiore questa gerarchia è strutturata così dal basso all'alto i giganti delle tempeste giganti delle nuvole giganti giganti del fuoco giganti del gelo giganti delle pietre giganti delle colline e poi vari giganti impuri quelli che sono affini giganti ma non lo sono del tutto come i fomorian gli ettin e gli ogre la lingua è il gigante e la razza più simile a loro è il goliath o goliath ovvero una sorta di mezzo gigante per le sottoclasse ce n'è una nuova per il barbaro nel manuale di bigby e la gloria dei giganti oltre poi al cavaliere l'unico per il guerriero entrambi permettono di aumentare la propria taglia e di incanalare il potere dei giganti come per i draghi i giganti potrebbero meritare un video futuro poi ci sono gli immondi vi ricordate dei celestiali che abitano i piani esterni superiori ecco questi sono tutto l'opposto abitando i piani esterni inferiori sono creature malvagie abiette prive di empatia o di pietà possiamo dividerli in due grosse categorie demoni e diavoli i primi sono caotici volte la distruzione al possesso di umanoidi i secondi sono organizzati dispotici desiderosi di controllare piuttosto che di distruggere vivono rispettivamente nell'abisso e nei nuovi inferi di bathor se con i demoni difficile capire come si relazionano tra di loro i diavoli sono strettamente gerarchizzati tipo giganti ma spesso quelli che stanno in basso cercano di tramare per prendere il posto di chi sta sopra anche qui ci può stare un video dove approfondisco un po più degli immondi sono scacciabili con protezione dal bene e dal male oppure con disperdi il bene e il male oltre poi ad essere percepiti con la percezione del divino del paldino e ad essere vulnerabili all'acqua santa un classico per i giocatori che vogliono giocare qualcosa di simile agli immondi è la razza dei tiefling che sono discendenti appunto da dei demoni o dai diavoli oppure da un umanoide che ha stretto un patto con qualcuno di essi generazioni prima questi umanoidi non immondi umanoidi sono marchiati con l'aspetto infernale o abissale che sono anche le due lingue degli immondi l'infernale per i diavoli l'abissale per i demoni e quindi hanno la pelle di colori insoliti oltre che grande corna e cuda come classe c'è il warlock patrono appunto dell'immondo è uno dei pochi warlock che può imparare palla di fuoco quindi fa sempre piacere veniamo alle melme rese famose soprattutto dal cubo gelatinoso un classico di dnd attraverso i decenni che si è visto pure nel fin del 2023 sono creature informi dai colori strani con ben poco raziocinio che strisciano tipicamente nei dungeon su pavimenti o soffitti avvinghiando i poveri malcapitati digerendoli con l'acido è un classico che gli avventuieri non le vedano arrivare finché non sono troppo vicine altra cosa che fanno è corrodere le armi che li colpiscono danneggiandole imponendo penalità sui tiri un buon incantesimo contro di esse libertà di movimento che libera eventuali giocatori intrappolati all'interno di esse non hanno lingue vere e proprie quindi i ranger che si specializzano contro le melme non hanno linguaggi da imparare nel manuale dei mostri non mi vengono in mente melme dall'alto grado sfida quindi se siete master vi conviene crearne voi qualcuna di nuova magari per un boss specifico se il vostro ranger si è voluto specializzare contro le melme mostruosità chiamate così perché miscellane era troppo forbito potremmo dire che tutte le creature che non appartengono agli altri 13 tipi sono mostruosità si passa da scherze della natura ad esperimenti magici falliti creature mitologiche che ricordano molto vagamente delle bestie ma non per forza elementi negativi possiamo trovare i centauri alcune sfingi che sono buone ma anche molte creature manchevoli di intelletto sufficienti a fargli capire cos'è il bene e cos'è il male occhio alla distinzione tra bestie e mostruosità che magari è sottile incantesimi per parlare con gli animali amicizia con gli animali o percezione delle bestie non funzionano sulle mostruosità anche se hanno fattezze bestiali tipo l'orso gufo o l'urifone come varietà sono seconde solo agli umanoidi quindi anche i linguaggi sono vari il minotauro parla l'abissale il centauro l'elfico silvano a volte possono formare società e in certi casi si può parlare anche di civiltà sono comunque considerate mostruosità ma forse questo termine può confondere un po le idee andiamo su qualcosa di più definito i non morti il classico zombie non possiamo dire che è morto perché si muove ma chiamare quello stato vita è offensivo verso la vita quindi si può parlare di non morte gente carinata ma non del tutto è uno stato in cui non c'è bisogno di mangiare o bere o anche solo respirare in cui passare attraverso la morte ha depravato completamente l'etica e la morale del non morto e ne ha lacerato l'anima se un'anima ancora ce l'ha quelli più deboli sono usati come servitori senza cervello da incantatori che li controllano mentre quelli di livello più alto possono essere gli incantatori stessi un classico sono i lich maghi che nel desiderare sempre più conoscenza hanno abbracciato la non morte non sempre questi non morti hanno ricordi di chi erano in vita solo alcuni ce li hanno non hanno una lingua vera e propria e sono facilmente affrontabili da chierici che hanno un privilegio a livello 2 chiamato incanalare divinità gli offre due opzioni una che dipende dal dominio divino l'altra è comune a tutti e serve a scacciare i non morti e a livelli più alti distruggerli pure paladini sanno individuarli facilmente con la loro percezione del divino poi un dominio divino in particolare ovvero quello della tomba offre sensi speciali apposta per individuarli anche loro sono vulnerabili all'acqua santa come gli immondi e non possono venire curati dalla stragrande maggioranza degli incantesimi di cura come i costrutti per giocare qualcosa di simile c'è il lignaggio del rinato nella guida di ravenloft che serve per fare un personaggio morto ma tornato in vita con qualcosa fuori posto saresti comunque un umanoide non un morto oppure c'è il mago della necromancia che fa un sacco di non morti anche come il chierico della morte e un po pure il druido delle spore c'è una supplica occulta del warlock che ti permette di lanciare animare a morti gratis disponibile per tutti i patroni anche se per questioni di roleplay certe volte è meglio evitare tipo se il patrono non c'è listiale oppure c'è anche il patrono del non morto proprio per chi volesse specializzarsi lì abbiamo poi gli umanoidi già tanto citati ma poco approfonditi la maggior parte dei personaggi giocanti sono umanoidi ci sono umani gli elfi nani gnomi kifling gli alfing i draconidi sono tutti umanoidi hanno tutti aspetto vagamente simile agli umani sono bipedi due braccia due gambe un volto definito una simmetria assiale almeno all'esterno hanno una biologia simile seppure come comportamento e aspettativa di vita siano fortemente diversi anche le società che si formano sono molto diversificate a volte anche all'interno della stessa razza formando quindi sotto razze è un gran casino un ranger con nemico prescelto può selezionare due razze di umanoidi al posto di un tipo di creatura più generico tipicamente le razze hanno le loro lingue quindi lì sono più facili da scegliere se tipo scegli gli orchi imparerà l'orchesco se scegli i goblin oidi imparerà i goblin per gli incantesimi molti di quelli a basso livello tipo blocca persone hanno come limitazione proprio gli umanoidi quindi sono abbastanza facili da utilizzare finiamo con i vegetali sono creature dall'aspetto e dalla natura di piante o cose simili attenzione anche se hanno l'aspetto di funghi sono comunque considerati vegetali seppure la scienza le differenzia fortemente piante e funghi aspetto legnoso e per avere energia fanno la fotosintesi anche se alcuni sono comunque carnivori nonostante le piante dovrebbero essere prive di un sistema nervoso hanno comunque un'intelligenza per parlare in uno più lingue tipo il silvano o il druidico alcuni sanno distinguere il bene il male tipo i twig bleak che sono malvagi mentre i trenter sono buoni non sono vere e proprie piante non è che se vuoi combattere contro una betulla consideri la betulla una creatura vegetale la consideri un oggetto inanimato per un'esperienza di gioco affine consiglierei personaggi basati sulla natura come duri di ranger chiarici della natura o paladini degli antichi e per gli incantesimi utili contro di loro sarà banale ma tutto ciò che fa danni da fuoco è utile visto che spesso hanno vulnerabilità a quei danni molto bene il video si conclude così ditemi invece vi è piaciuto mettete mi piace in caso in caso contrario non mi piace quale di queste 14 tipi di creature è la vostra preferita iscrivetevi al canale attivate la campanellina noi ci risentiamo il mese prossimo ciao ciao alla prossima